benvenuti in questa guida top 7 teli proiettore di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo schermo proiezione trasportabile 150 questo schermo proiezione trasportabile è una soluzione ideale per chi cerca uno schermo di grandi dimensioni leggero e ripiegabile il formato 16 e 10 offre un'eccellente qualità dell'immagine mentre la struttura leggera e compatta lo rende facile da trasportare punteggio 78 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo ai vlux marchio registrato piano tension motor clr allr questo telo proiettore ai vlux è un prodotto di qualità eccellente la tensione del motore clrr è regolabile la qualità dell'immagine è straordinaria grazie all'altissimo contrasto hdr 8k 4k 3d il design a 92 16 9 è perfetto per qualsiasi ambiente punteggio 79 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo xlutelo proiettore motorizzato sollevamento automatico formato motorizzato xlutelo proiettore motorizzato è un prodotto eccellente il sollevamento automatico il formato 16 9 senza bordi neri offrono un'esperienza di visione ottimale ideale per home theater presentazioni teatrali istruzione all'aperto e esposizioni pubbliche interne punteggio 79 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare telo proiettore 100 pollici questo telo proiettore è una soluzione perfetta per portare il cinema a casa tua il telo da 100 pollici è privo di pieghe ha una borsa e un treppiede inclusi e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno la qualità dell'immagine è eccellente e la proiezione è nitida e chiara punteggio 86 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo oncom schermo proiezione motorizzato e ho acquistato questo schermo proiezione motorizzato è avvolgibile di oncom per il mio proiettore da 100 pollici è di buona qualità facile da installare e funziona bene il telo bianco è di buona qualità e la dimensione di 203 per 152 centimetri è perfetta per la mia stanza punteggio 87 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo schermo proiettore 120 pollici 16 9 questo schermo proiettore è fantastico è facile da montare ha una buona qualità dell'immagine e la sua doppia faccia è molto pratica il tessuto è resistente e lavabile quindi durerà a lungo è anche pieghevole e portatile quindi è perfetto per eventi all'aperto o in viaggio punteggio 94 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica telo per proiettore 150 telo questo telo proiettore è una scelta eccellente per le presentazioni in casa feste ufficio o aule il telo è di 150 e ha un rapporto 16 9 hd è pieghevole e può essere usato sia all'interno che all'esterno la qualità dell'immagine è eccellente e il supporto è robusto punteggio 95 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale